Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Tank Ride Online ragazzi Un gioco fantastico e vi sta piacendo tantissimo Cerchiamo di arrivare a 500 like per questo video, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi Lasciate il hashtag Tank Ride qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino E andiamo avanti Io mentre non portavo il video ho continuato a farmare, farmare, farmare E quindi abbiamo tantissime casse da aprire ragazzi Quindi oggi possiamo parlare di chest opening Allora partiamo con la prima di legno, vai, scrigno di legno Monetine che fanno sempre comodo che ormai ne ho 24.000 ragazzi Pazzesco, davvero pazzesco solo con le partite Barriera normale, va benissimo così Teliott, ok Perfetto, quindi abbiamo robina Andiamo ad aprirci le casse quelle di bronzo che abbiamo conquistato con le partite Quindi calcolate, ho 70 medaglie, quindi calcolate quante partite ho potuto fare Chiave, scrigno 72, vai Scrigno di bronzo, 90 monetine Super razzo Dark Age per 2 Low Whisper 1 Ok, vai, si continua Rivendica, vai Altre 6 ne abbiamo Continua Prendiamo tutto e di più così ci potenziamo anche Perché io non mi sono mai potenziato ragazzi, eh Super razzo Teliott, vai Che tra un po' lo potenziamo Low Whisper per 2 Vediamo un po' se abbiamo qualcos'altro Va bene così Altre 5 ragazzi Si continua Carte e veicola tutto spiano per noi Monetine Che tanto ci fanno sempre comodo Super razzo 3 Un'altra volta potenziabile Dark Age 1 Niente male Teliott 2 Quindi lo abbiamo potenziabile ragazzi Il Teliott Rivendica Ok Andiamo a prendere altre 4 Questo è un bel chest opening bronzoso Monete Per noi Super razzo Va benissimo così Un Low Whisper 1 Tra un po' lo possiamo potenziare Un Teliott Che era già potenziabile Va benissimo così Altre 3 casse bronzo E poi abbiamo la dorata ragazzi Che l'ho tenuta lì da parte, eh Andiamola ad aprire Monete Super razzo Vai così ancora Teliott Ancora Teliott Low Whisper Vai Il nostro cerchino si potenzia Ok Dai su Ok A posto Prendiamone altre 2 Ce ne abbiamo Vai Mamma mia Che chest opening lungo Monete Anche perché quando dovete cliccare Per aprirte chest È quello l'unico bug Diciamo che c'è Dovete cliccare in un punto specifico Qui Se no Non le apre Ok Perfetto Allora vai Andiamo con lo scrigno Argentato Addirittura Gentilissimi Monete Super razzo 5 Vai così Dov'è che si clicca Qui Low Whisper 6 Ragazzi Potenziabile Low Whisper Perfetto Stiamo andando Veramente Alla grande Direi di aprire Il nostro Scrigno d'oro Carte abilità 8-10 Carte 3-10 12 Fantastiche Veramente tanta robina 209 monete per noi Vai così di cattiveria Invisibile Questa sarebbe da sbloccare Ragazzi è fighissima Il super razzo Potenziabile Questa è un'ottima cosa Lo scorpunk Che cos'è questa cosa Eh però peccato che non lo possiamo ancora sbloccare Mi sa Perfetto Un bellissimo tank raro Ok possiamo fare upgrade ragazzi Potenzia il veicolo Con 300 monete Manca di che fosse tanto Sinceramente Ce ne ho 24.000 Ok andiamo a potenziare Qualche altro veicolo Ah questo posso potenziare Ben due volte GG Fantastico Abbiamo mezzi potenziati Ok potenziamo anche lui Molto gentile L'avevo già potenziato tanto Mi sa perché leggo 2400 ragazzi Pazzesco Veramente pazzesco Abbiamo livello 4 lui Livello 2 quello che usiamo più spesso Ci piace Ci piace questa cosa Ah ragazzi Grazie dei regali che mi mandate di continuo Le gemmine Non posso accettare tutti Perché ho già riempito Il massimo degli amici Che si possono avere Sul tank ride Che sono 50 E ho altre 71 Richieste di amicizia Pazzeschi Direi di andarci a fare Una bella battaglia insieme Ragazzi Con il mezzo che abbiamo potenziato A livello 4 Così vediamo quanto è più potente Ah prima di tutto Mi era dimenticato Livello superiore Vai Paghiamo anche questo E potenziamo il missilotto Perfetto E sta partendo Questo team death match Ragazzi Vediamo di quanto Si è potenziato Che cosa è diventato Attenti a quelle cannonate Mannaggia voi Dovete stare Attenti Ci rischiate male Ok Questo era quello lì Ranged Che tira i missiletti Questo è molto Comodo da un punto di vista Ma non fa tanti danni subito Quindi Bisogna giocarsela Bene Perché se no Si spregano Un sacco di colpi Ok Potremmo farcela Mamma mia Un one shot Di tecnica speciale No Siamo passati tutti e due Sulla maledetta Gelatina verde Ok Quest'arma È già potente di suo Oppure potenziata Sembra che sta facendo Buoni danni Ok Loro si vanno a nascondere lì Uno ci sta passando dietro L'ho visto Guardate il maledetto Come ci ha provato Alle spalle Il maledettissimo T'ho poca vita ragazzi Sto rischiando molto male Sinceramente Ok Devo stare attento a loro Guardalo 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 lo schifoso Guardalo che ci prova Però sei troppo distante Non ce la puoi fare Ok I miei compagni Non so dove stanno Stanno andando a morire Eh sicuramente Te pare Guardate che nabbi È capitato il team dei nabbi E questa non è una buona cosa Oh Ucciso a distanza Col bonus corsa Mi vado a recuperare l'esperienza Mamma mia Mi ha allisciato con la palla Mi ha allisciato con la palla E non mi sono accorto neanche Come ha fatto Sinceramente Vai così No si è preso lui il bonus Però muori Mi dispiace Grazie dell'esperienza Salgo di livello Ok Adesso facciamo ancora più danni Dove siete? Ah Eccoti Piazzaone Vieni Vienici Mamma mia Quanto ti ammazzo Mamma mia Che botte Fantastico L'abbiamo ucciso Eh però dobbiamo Le lacce da sta pozzetta No È uscita la gemma È uscita la gemma La prende Joachim No la prende Davide Ok Davide Davide Scusate Ho detto Davide Non volevo chiamarlo in italiano Mi dispiace È l'abitudine Ok Vediamo un po' Se ce la facciamo A fermarli Mica tanto Regà Ah no No per niente proprio Lo rischiate morì Ci hanno fregato la gemma Ai 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 E non posso neanche far tanto Perché ho pochissima vita Dovrei recuperare la vita Ma questo mi sta Inseguendo male Oh Posso fare level up Se facciamo level up Gli andiamo in faccia Gli facciamo ancora più danni Che liscio Che m'hanno fatto Stavo rischiando malissimo Oh Bellissima sta cosa Doppia kill Mamma mia Davide Mi si è fregato Una doppia kill Di quelle fantastiche Ok Sta rimanendo lì In difesa Il maledetto Guardatelo Guardatelo Possiamo anche vincere a kill Sinceramente Contro questi eh Ma si Ma dai Sciottiamoli di cattiveria Così facciamo 10 a 10 Direttamente Senza tenere la gemma Sarebbe fantastico Ok Vediamo un po' Guardate come rimangono In difensiva A distanza Ai maledetti eh Vi piace La arca miseria Mi è arrivata una final Incrociata sul faccione E beh però Mo ce mori Mi dispiace L'avevo detto che ce morivi E me la piglio io però Grazie perché mi serve vita Oh abbiamo vinto Oh Vittoria assicurata Che figata Ok Scritta di legno per noi E un'altra chiavetta Vai Si sale E ora me ne vado a fare una Con il mio mezzo preferito Oh mi piace questo Mi piace veramente Dando Aiaiaiaia La palla La palla La palla Ci ha preso La palla ci ha preso Giustamente Mi ero distratto E sono andato a dritto Il problema è che Se hanno solo un mezzo Con quella palla Non ci fanno troppi problemi Ok Anche questo è un mezzo Più o meno ranged Più o meno a distanza Ma i suoi tre colpi Fanno molti più danni Ne riesce a colpire Insomma Ok Vai E c'ha anche molte più cariche Sinceramente Uaa Fai una suffaccione Oh si è salvato No muore E moriamo pure noi però Il veleno raga Il veleno Il veleno ci ucciderà Non è vero Non è vero Siamo salvi Recuperiamo un attimo di vita Diamoci un attimo di tempo Ok Stiamo recuperando vita Non prendo il bonus Perché quando prendo il bonus Velocità di solito Mi si leva La ricarica di vita Guarda che maledetto Me se l'è fregato Stavo aspettando io Ma non si fanno queste cose No dai Cattivone Aia Eh c'è stavi a provare Ok mi vado a prendere Il bonus esperienza Oh pelati Prendo dall'alto Questo c'è lo stesso mezzo mio Ok Alla c'è un altro bonus esperienza Che lo voglio assolutamente Dobbiamo diventare enormi E gli altri intanto Si fanno ammazzare Perché sono tardi Non è che possono aspettare Dici Facciamo un bel gioco di squadra No no Per niente Ma stai a scherzare Il gioco di squadra Ma che cos'è il gioco di squadra In questa partita Vero Vero Ai 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 danni Questo fa tanti danni Eccolo Eccolo che scappa Eccolo che scappa Che aveva l'invisibilità Oh Paura Paura Tanta paura C'ho poca vita Non mi cammina il personaggetto Non so perché Olè Vai così Vai che l'ammazziamo Guardalo guardalo Come sta giocando Muovendosi lateralmente Mi dispiace Sono più bravo io E mi vado a prendere anche La gemmina qua Perfetto Danni sul groppone Ne uccido ben due ragazzi Uno dei nostri si è sacrificato Per la mia vita Ti ringrazio tantissimo Volevo la gemmina E volevo anche il quarto livello Ok Stiamo andando alla grande Facciamo dei danni assurdi Perché siamo di quarto livello Sbam E abbiamo pure lo sprint adesso Gentilissimi A potenziarmi così tanto Ok Questi sono i giochi adatti a me Mi sa che io Quando uscire a brostare Sarò una bestia Guardare come mi ci trovo bene A fare sti giochetti Fantastico Ok Vai vai così Allora Ah Gnag Guardare come cercano di scapparmi Se mi tirano la palla Quella gigante Adesso in faccia Mi ammazzano Allora Voglio tornare indietro Perché tanto ho 33 secondi Volevo vedere se sarà formato Qualche bonus Il bonus chiave Che non sarebbe mica male Per avere un'altra Chiavetta per la nostra chest Tanto questa la andiamo a vincere Se non mi uccidano a me Ok Wow Zata Mallorca Grazie dei punti Ok Abbiamo due chiavi quindi In questa partita Vinti Perfetto Oh miseria Che vuoi fa? Che vuoi Oh Ma ha sfiorato una final Ma ha sfiorato una final Brutto schifoso Sei stato tu vero? Sei stato tu Lo so Grazie Molto gentile Alcune persone ti vengono In faccia così Cattiveria E poi muoiono E ci fanno vincere Grazie Gentilissimi Vai Due chiavette E ora ci facciamo Un'ultima partita Con il Telyot Ragazzi Questo bellissimo Tancone Che ci darà tanta soddisfazione Questo che fa? Attacca e poi tira Tre palline Oh miseria È rimasto con 36 di vita Per starvi a spiegare Per poco moriamo Noi invece Ci ha fatto una copertura Fantastica Quel tizio Mamma mia Mamma mia Quanto t'ho lisciato Mamma mia Come te liscio male Guarda come scappa Olè Colpito 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 No questa volta Tu no Ti spiace A te non t'ho colpito Lo so Volevo colpirti Con la final Tipo così Non so D'è andata l'esperienza Guardare Do cavolo È saltata via Se serviva a noi È andata dalla parte loro L'esperienza Capito Dopo che l'ucciti Ti pare Eh oh Pia questi bei tre colpetti Sul facciavano tutte le volte Ti è Ti è Mamma mia Gente nabba oggi Ma che Molto gentili Datemi più kill Che io ho voglia Di salire punteggio Ma tanto tanto poi Che bello Questi quei cannoncioni C'hanno un danno pazzesco Ma il raggio è cortissimo Quindi quando si mettono Contro i ranged Come me Che c'hanno Il triplo colpo Che si divide All'ultimo E quindi fa ancora più danni Guardate che roba Mamma mia Eh no Se t'abbicini però Non ci riesco Quanto mi hai lisciato Mamma mia Mi vado a prendere l'esperienza bonus Assolutamente Sono un 2 No Si è fatto ammazzare Come un leso Dai Scusa eh Scusami eh Ma se ti metti così Con lo scudo Non fai prima E l'ammazzi Qua 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 Guarda quanta scena Fanno un sacco di scena E poi crepano Intanto qua passano Gli elicotteri Perché te pare Boom Il one shot Con la final Si porta a casa Il one shot Con la final Fantastico Oppela Ok Ce l'abbiamo fatta Abbiamo sprecato un po' Quell'attacco Quella special Quella mina Lì giù Mamma mia Guardate i danni Guardate i danni Qua No Ho finito i colpi Morice Kill per me Molto gentile Livello 3 Vai così di cattive Mamma mia E botte Le botte Io l'ho detto E botte Allontanate lord Perché c'è Mori Perché ho ricaricato i colpi Adesso Opela Kill per noi Vai Uccidiamo questo Mamma mia Le botte Che stiamo dando Alla gente Ha recuperato Tutte l'energia Che avevo Tolto da quel tizio Per ucciderlo Il maledetto Oh E tu che ci fai qua E tu che ci vorresti fare qua Hai tirato pure I colpi in modo sbagliato Bravo Tardone E questo mo' più io Ah ah Livello qua Che fai Ce provi? Ce provi? No ci stai a provare Serio? Ce provi ancora Sono livello 4 Ti ricordo eh Vabbè Vabbè Ci credono Ci credono ancora 17 a 6 State contro un mordughino Non è uno a caso eh Non mi chiamo a caso Io mi chiamo mordugh Anzi in questo caso Mi chiamo elenio Perché mi sono registrato Con il mio vero nome Ok Vai così Mamma mia Vittoria 18 a 6 Le domino tutte ragazzi 8 di score Fantastico Ok ragazzi Penso che per questa puntata Sia tutto Ne abbiamo vinte Ben tre Con tre mezzi diversi Abbiamo fatto un bel chest opening Abbiamo potenziato I nostri mezzi Anche parecchio E abbiamo ancora Tanti gold Per poter potenziare Quindi io continuerò a farmare Così faccio altri chest opening Ogni volta che facciamo La puntata di tank ride E niente Arriiamo a 500 like Condividete il video Iscrivetevi al canale Se sei nuovi Lasciate un taglio A tank ride Qua sotto nei commenti E ci vediamo Alla prossima puntata Iscrivetevi al canale